signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nelle scorse settimane avevo detto che avrei fatto un video in cui andavo a parlare degli aspetti pratici della progettazione di un mega dungeon ma mentre mi sono messo a scrivere quel video mi sono reso conto che molte cose in realtà non sono specifiche nelle mega dungeon ma si adattano a qualunque tipo di dungeon potete trovare in qualunque tipo di ambientazione ne preveda uno quindi invece di fare un unico video molto lungo e fidatevi sarà comunque molto lungo ho deciso di spezzare la cosa i primissimi video del canale sono stati proprio dedicati agli aspetti pratici della progettazione di un dungeon stanze porte corridoi ve li lascio linkati qui sopra sono invecchiati malissimo andateli a vedere provate pietà per me ma mi sono reso conto di non aver mai fatto un video che parla degli aspetti teorici di che cosa sia un dungeon di cosa dovete pensare quando vi mettete a progettare un dungeon per inserirlo nella vostra quest che sia un dungeon generato randomicamente all'interno di un sandbox più grande o che sia proprio l'intera ambientazione di una one in cui gli eroi devono entrare prendere il tesoro e uscire quindi questa settimana dedicheremo questo video a pensare a cosa deve essere inserito in un dungeon prima di andare avanti cominciamo facendo una premessa il dungeon inteso come struttura della quest e un tipo di modo in cui si può gestire una quest gdr e in quanto tale si può applicare a qualunque tipo di quest nella maggior parte del gioco di ruolo ma questa settimana noi andiamo a parlare nello specifico del troppo del dungeon nel fantasy cioè la struttura abbandonata sotterranea in cui gli avventurieri vanno a sconfiggere mostri e recuperare i tesori come già detto nel video del mega dungeon tutto quello che dirò probabilmente si può applicare anche ad altri tipi di ambientazione ad altri tipi di quest ma questa settimana mi focalizzerò sul classico dungeon del fantasy e tutti i vari troppo che lo riguardano cercherò di essere il più schematico possibile in modo che voi possiate farvi proprio una checklist mentale o anche fisica di tutti gli aspetti a cui dovete pensare quando state per introdurre un dungeon nella vostra quest e cominciamo da uno degli aspetti più basilari ma più sottovalutati cioè chi sia stato in origine a progettare e costruire il dungeon questa apparentemente può sembrare una questione banale o irrelevante dopo tutto chiunque sia il costruttore originale del dungeon adesso non è più lì e non ha più modo di interferire col dungeon altrimenti il dungeon non sarebbe abbandonato ma in realtà andrà a pesare non solo sulle descrizioni che voi farete del dungeon ai vostri giocatori quindi l'immagine mentale che loro si faranno durante il gioco ma anche su alcuni aspetti tecnici e pratici del layout del dungeon stesso il classico mondo fantasy a varie razze di creature essenzienti che si differenziano per la loro tradizione la loro cultura e nel caso che importante per noi il loro stile architettonico il dungeon costruito dai nani nel cuore della montagna sarà diverso dall'antico palazzo elpico oramai invaso dalla giungla e questo tramite le vostre descrizioni non solo andrà a influenzare quello che i giocatori si stanno immaginando che sia il mondo di gioco condiviso ma potrebbe anche andare a influenzare direttamente il rapporto e le reazioni che i personaggi avranno con l'ambiente in cui si muovono se il mago elfo girando per le rovine di quella che una volta era una città dei nani potrebbe essere sprezzante fare commenti sarcastici su come sia andata in declino la civiltà nanica negli ultimi millenni magari quando andrà nel l'antico palazzo elfico invaso alla giungla sarà molto più sensibile e sentimentale a riguardo al di là di questo alcuni aspetti funzionali del dungeon o per meglio dire alcuni aspetti legati a quella che era la funzione originale del dungeon nella fiction di riferimento del gioco potrebbero andare a essere molto influenti su quella che ne sarà poi effettivamente la mappa banalmente gli umani in dungeons and dragon e in altri giochi analoghi vedono molto peggio delle altre creature umanoidi nel buio di conseguenza un dungeon costruito dagli umani potrebbe prevedere molte più torce candelabri e lampadari che pendono dai soffitti rispetto a una struttura analoga costruita dagli elfi o dai nani ma ancora più palesemente un dungeon costruito dai giganti probabilmente sarà di dimensioni molto più grosse semplicemente perché è stato pensato per poterci ospitare delle creature di taglia grande questi sono elementi a cui dovete pensare non solo per le descrizioni che farete i giocatori ma proprio mentre state andando a realizzare la mappa del dungeon chi l'ha costruito aveva uno stile architettonico particolare o aveva bisogno di particolare stanze aveva necessità che prevedevano che il dungeon includesse determinati ambienti pensate ai mainflayer e il modo in cui hanno a riprodursi ogni loro struttura deve avere una pozza della nascita tutti questi elementi non solo vi aiuteranno a riempire la mappa ma anche a caratterizzare il singolo dungeon renderlo unico e differente da tutti gli altri dungeon della stessa quest o della stessa ambientazione al di là dello stile delle preferenze architettoniche gli abitanti originali dovrete riflettere anche su quale fosse lo scopo per cui questo dungeon è stato costruito in origine e anche questo ovviamente andrà a riflettersi sia sugli ambienti che contiene che sulla descrizione che ne farete quale fosse la funzione originaria della struttura e che cosa venisse fatto al suo interno sarà probabilmente l'elemento che influenzerà la sua mappa e proprio il suo ambiente più di tutti gli altri un dungeon che era originariamente concepito per essere una struttura fortificata che faceva la guardia lungo un confine probabilmente avrà mure merlature feritoie per le arcieri e comunque il suo layout sarà stato pensato per essere facilmente difensibile e essere particolarmente ostico da assaltare per gli invasori magari ci saranno anche trappole costruite all'interno della struttura stessa al contrario una città sotterranea dei nani che era un posto dove semplicemente la gente viveva la sua vita magari avrà spazi per adunate vita sociale teatri piazze strutture abitative ci sono quello che erano le case dei nani originali mercati negozi magari ora è tutto in disuso ma la pianta resterà quella e questi elementi sono trasversali al tipo di cultura che li ha edificati i nani possono costruire strutture basse quadrate e labirintiche e gli elpi torri scintillanti ma una fortezza rimane una fortezza e esiste un modo limitato di modi per costruire una fortezza tutti questi elementi diventeranno poi le stanze che gli avventurieri vanno esplorare durante il loro percorso all'interno del dungeon quindi vi saranno utili anche per sapere cosa deve essere interito all'interno della struttura pensate poi a quale sia il motivo per cui il dungeon è stato alla fine abbandonato la città sotterranea dei nani magari campava grazie a delle rotte di commercio che passavano da lì queste rotte poi si sono spostate la città semplicemente ha avuto una grossa crisi economica e pian piano si è spopolata ma la fortezza potrebbe essere stata conquistata dal nemico durante la guerra e quindi quando adesso gli avventurieri ne percorrono quelli che erano i passaggi potrebbero trovare ancora resti dei danni che la struttura ha subito durante l'attacco magari ci saranno ancora mura crollate che sono state tirate giù a cannonate e quelli che erano i trabocchetti originali sono stati disinnescati altre strutture al contrario vorrebbero non essere mai state formalmente abbandonate l'antica tomba sotterranea del re mummia è stata fin dall'inizio progettata per contenere la mummia del re i suoi servitori non morti e una volta che è stata finita di costruire è stata sigillata con l'intento di non farci entrare mai più nessuno quindi al suo interno potrebbe contenere ancora tutti i fasti dell'antica civiltà e probabilmente un gruppo in non morti che sono totalmente contrari allo sfruttamento a fini turistici del loro luogo di riposo ovviamente però per quanto sapere la storia il retroscena il passato nel dungeon sia importante per integrarlo in maniera propria all'interno dell'ambientazione quindi mantenere verosimiglianza e sospensione dell'incredulità i giocatori nel dungeon ci stanno andando adesso e quello che interessa principalmente i loro personaggi e cosa ci sia nel dungeon ora anche in questo caso il classico trope fantasy vuole che il dungeon nel corso dei secoli sia caduto in disuso e ora sia abitato da qualche tipo di creatura sgradevole o umanoide malvagio che ne ha fatto la sua nuova dimora se però questo è il cliché del fantasy che deve essere mantenuto questo non vuol dire che i nuovi abitanti del dungeon lì dentro non ci stiano a fare altro che fare la guardia alle porte e aspettare che qualcuno arrivi a depredare la nuova casa in questo caso quello su cui dovete concentrarvi e chi siano i nuovi abitanti del dungeon e in che modo questi nuovi abitanti abbiano modificato gli ambienti o le risorse del dungeon in modo che tornino utili a quello che loro vogliono fare adesso in quel posto quella che una volta era l'antica tomba del faraone mummia è stata conquistata e saccheggiata da una locale tribù di lucertoloidi e quindi adesso i lucertoloidi vivono nel dungeon e quella che all'inizio era la camera principale dove c'era il sarcofago del re mummia e la sua guardia di non morti adesso è diventata il magazzino della tribù dei lucertoloidi perché l'ambiente più grande e più facilmente accessibile e quindi è estremamente comodo per loro accumulare la roba lì dentro e spero abbiano tolto il re faraone da lì dentro perché sennò sarebbe veramente un risveglio atroce per lui e magari dopo aver sconfitto la guardia non morta del faraone i lucertoloidi hanno preso le loro armi perché i copesh di bronzo degli antichi guerrieri erano comunque migliori alle loro mazze di pietra e ora lo sciamano il capo tribù e lucertoloidi indossa come gioielli i paramenti funerari di quelli che erano il faraone stesso i nuovi abitanti potrebbero anche aver alterato la struttura in maniera molto più evidente creando nuovi ambienti sbarrandone altri e modificando quello che già c'era magari quella che una volta la fucina dei nani adesso è il posto dove i lucertoloidi tengono al caldo le loro uova dove una volta c'erano dei magnifici arazzi gli orchi hanno fatto degli scarabocchi o magari più semplicemente adesso ci sono delle scritte sui muri nella lingua i nuovi abitanti che indicano le direzioni perché i nuovi abitanti non vogliono perdersi all'interno della struttura labirintica potenzialmente qui potreste anche invertire il trope magari i nuovi abitanti hanno migliorato la struttura originale un dungeon potrebbe avere un'area che è stata nuovamente abitata rinnovata ristrutturata ai nuovi abitanti e magari anche un'area totalmente nuova costruita con lo stile dei nuovi abitanti e un'altra area invece che è ancora affaticente e popolata da creature mostruose perché lì i nuovi abitanti non avevano interesse andare e quindi è ancora rimasta al suo stato naturale per quanto tutti questi elementi siano fondamentali per la verosimiglianza e per far credere ai giocatori di essere all'interno di un mondo molto più reale di quello che è in realtà non fate poi l'errore di creare tutto un retroscena per il dungeon per poi popolarlo semplicemente di gente che sta ferma in una stanza per aspettare che i giocatori arrivino ad ammazzarla ogni dungeon dovrebbe avere un qualche tipo di narrativa al suo interno che lo rende interessante anche dal punto di vista della storia che sta narrando e detto in parole povere cosa sta succedendo all'interno del dungeon quando arrivano gli avventurieri il punto del discorso alla fine è proprio questo il dungeon esiste perché venga esplorato dagli avventurieri quindi pensate sempre a quale fosse l'evento o gli eventi che si stavano svolgendo al suo interno e che in un modo o nell'altro l'arrivo degli avventurieri è andato a disturbare questo vi aiuterà a pensare a tutto quello che i png all'interno del dungeon stanno facendo quando gli avventurieri li incontreranno ora ha senso che magari sul perimetro sugli accessi principali del dungeon ci siano effettivamente delle guardie che stanno tutto il giorno lì per impedire appunto che qualcun altro entra nel dungeon ma una volta che gli avventurieri hanno superato quelle guardie e sono arrivati all'interno della struttura vera e propria incontreranno anche gli altri abitanti della struttura cosa stavano facendo questi abitanti e come reagiscono all'arrivo degli avventurieri magari quando gli avventurieri superate le guardie iniziali entrano nell'antica tomba del faraone ora abitata dai lucertoloidi i lucertoloidi armati con le spade di bronzo delle guardie del faraone correranno verso i loro per cercare di intercettarli ma magari in controscena alle spalle dei guerrieri della tribù ci saranno altri lucertoloidi che cercano frettolosamente di mettere in salvo le uova dai barbari invasori quello che i giocatori vedono fare i png o vedono dopo che hanno ucciso i png racconterà una storia all'interno di una storia ne abbiamo già parlato nel video sulla narrazione mimetica qualche anno fa ma anche semplicemente dopo che i giocatori hanno ucciso le guardie troveranno che sul tavolo del loro dormitorio ci sono ancora le ciotole con i resti del cibo che qualcuno stava mangiando quando è scattato allarme ed è corso a intercettare gli avventurieri e magari un mazzo di carte con cui qualcun altro stava giocando per passare il tempo potenzialmente anche un dungeon vuoto potrebbe avere una sua narrativa interna da affreschi e mosaici che raccontano la storia del dungeon o la storia civiltà che l'ha costruito ma anche solo i resti degli avventurieri che hanno cercato di entrare nel dungeon precedentemente e sono morti per via delle sue trappole che ora potrebbero dare indizi ai giocatori su al di là del quali sono i corridoi sicuri e quali no ma su cosa è successo a quelli che hanno precedentemente cercato di esplorare il dungeon tutti questi sono elementi che servono a vendere ai giocatori il concetto che il dungeon sia un ambiente all'interno del mondo del gioco che sia vivo e integrato e non semplicemente una serie di schermate da videogioco diciamo che questi sono probabilmente i punti più importanti da tenere a mente nella vostra checklist di cose su cui riflettere quando pensate di inserire e progettate il dungeon per la vostra quest ovviamente non sono le uniche cose a tenere in considerazione ma il video è già durato troppo e adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti cose sono le cose che voi ritenete più importanti a cui pensare ogni volta che vi mettete a progettare un dungeon e perché per voi sono così importanti come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che sta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal canale di telegram dove metto io il video manualmente e si raduna anche la community del master cai con cui ogni tanto facciamo dei progetti come avete visto nelle scorse settimane per il resto io sono il master cai e noi ci vediamo al prossimo video